La musica, la cultura, la solidarietà, l'immigrazione, le tragedie del mare, i porti sicuri. L'argomento è di scottante attualità ed il concerto verso un porto migliore lo testimonia. Sabato prossimo al Teatro Agusteo di Salerno debutterà in versione live Segni Distintivi. Il duo di poliziotti cantautori, composto da Angelo Forni e Fabio Sgro, balzato alle luci della ribalta per il brano La Pagella, dedicato al 14enne migrante morto in mare con la pagella cucita nella tasca della giacca. Al concerto parteciperà il coro di 50 bambini Dream and Sing, composto dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Don Alfonso De Caro. L'incasso della serata andrà in beneficenza per iniziative di solidarietà promosse dall'Arci e dall'Associazione La Tenda. Sì, devo dire che è successo tutto molto in fretta, quindi siamo ancora, quasi non ci crediamo ancora che da quando abbiamo iniziato a suonare, circa dieci anni fa, qualche canzone è nata magari durante la pattuglia. Oggi poter presentare un lavoro che va avanti da tempo con canzoni oltre alla pagella che avete già sentito, insomma, ma con canzoni che raccontano storie, raccontano anche storie personali. Arrivare qui non è sicuramente un traguardo, però è inaspettato, è inaspettato e fa molto piacere poi trovare, per me che vengo da fuori, trovare questa accoglienza, ecco, è veramente importante, veramente bello. Da quell'idea, da quella situazione spiacevole, aspettavate di arrivare fin qui? No, in realtà no, infatti l'ho detto anche alla conferenza stampa scorsa e ci tengo a rimarcare questo aspetto, nel senso che non mi piace strumentalizzare quello che è successo. Noi abbiamo fatto nient'altro che raccontare una storia che personalmente quando l'ho ascoltata in tv mi ha segnato e quindi questa cosa, se deve essere, come in realtà credo abbia preso questa strada qui, se deve essere un veicolo per informare, per far comprendere alle persone che, ecco, questa storia che è capitata mettendosi, provando almeno a immedesimarsi, in questo caso nell'immaginario di un ragazzino quattordicenne di un paese del terzo mondo che prova a migliorare la propria esistenza venendo in quello che abbiamo chiamato appunto un porto migliore, ben venga. L'assessore alla cultura del Comune di Salerno, Tonya Wilburger, lancia un grido di solidarietà da Palazzo di Città. La cultura, come ormai stiamo procedendo su questa strada, comprende varie realtà e quindi chiaramente la solidarietà ci tocca particolarmente perché il tema della solidarietà essendo, venendo io da un'associazione, da una vita associazionistica, quindi siamo ben predisposti su questa linea. Quindi appena è stata data questa proposta, è molto interessante perché appunto abbraccia una realtà molto delicata che è appunto quella dell'immigrazione e quella di come da una difficoltà terribile si riesca a tramutare in una positività, quindi in cultura e quindi in arte.